E' assicurata una giustizia infinita. Entità A, Maestro Andrea, attraverso Corrado Piancastelli. Tutto questo ci ricollega al piano generale della legge di Dio, nella quale veramente è assicurata una giustizia infinita. Così nessuno va più avanti di quanto debba andare e nessuno può modificare la necessità di un lavoro evolutivo se non in base ad una norma precisa che è assolutamente sempre uguale a se stessa in tutto l'infinito universo. Ecco perché la giustizia di Dio è infinita ed ecco perché non c'è assolutamente la possibilità di sbagliare né di aumentare arbitrariamente la velocità dell'evoluzione. Il principio dell'evoluzione è un principio di realizzazione spontanea e continua e, proporzionatamente all'evoluzione, accadono o non accadono certi fatti. Naturalmente, in nome della libertà, lo spirito può scegliere ad esempio di trattenere il complesso psichico. Allora è una sua decisione, ma non può decidere di eliminare la sua struttura animica se rimane ad esempio nell'ambito del terreno. La libertà dello spirito sta dunque nell'ambito di una legge ferrea, né d'altra parte. Egli ha bisogno di alcunché d'altro a questo punto, perché egli ha la massima garanzia che su di lui e dentro di lui gli accadimenti hanno un valore eterno e si ripetono per tutti gli esseri viventi dell'universo. Grazie. 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 Grazie.